Qualora ci fossero stati dubbi, Ignazio Moser ha ufficializzato di aver fatto l'amore con Cecilia Rodriguez sotto le telecamere del grande fratello Vip e mentre il suo ex fidanzato rimane in silenzio oppure in alternativa difende ancora colei che è stata al suo fianco per quattro anni, l'ex ciclista racconta come è andata la loro prima volta. Ciò che ha espresso è estremamente poetico naturalmente sono ironica, giusto per chiarire. Non ci credete proseguite nella lettura e ne saprete di più. Grande fratello Vip 2017 Ignazio e le frasi da poeta sul rapporto con Cecilia Diciamo che il rapporto è durato poco, mi sono svuotato subito. Dopo 53 giorni di pioggia il bicchiere pieno fa presto a svuotarsi. Che dire un vero cavaliere non trovate il popolo di Twitter, ha prontamente riportato le dichiarazioni di Moser e per molti utenti, la sua è stata una vera caduta di stile. Il 25enne ha dimostrato ancora una volta di essere infantile e di considerare le donne come dei trofei. Cecilia Rodriguez però, nella casa del GF Vip 2, sembra totalmente invagita di Ignazio, nonostante abbia tenuto la fotografia del suo ex sotto il cuscino. Il web però, attento come non mai ha messo in evidenza anche un altro dettaglio, probabilmente i due hanno dei rapporti non protetti e non stanno usando il preservativo. Ed infatti, su internet ne è nato anche un dibattito visto che, il grande fratello Vip si premura di squalificare immediatamente chi bestemmia e rimproverare chi dice castronerie vedi Giulia De Lellis ma non mette in evidenza la possibilità di dover fare sempre sese sicuro. GF Vip 2 La capanna dell'amore di Ignazio e Cecilia nelle scorse ore, i due hanno perfino costruito una capanna per copulare nuovamente. Con l'aiuto di Ivana e Giulia, i neo fidanzatini hanno nuovamente dato spettacolo all'interno della casa del grande fratello Vip 2017, così come riporta Bicife dopo aver fatto ciò che dovevano fare, e gli altri concorrenti in gioco hanno visto il loro nido d'amore, compresa Corin Clary. Piccolo dettaglio dopo aver finito di fornicare, la De Lellis li è andati nuovamente a trovare e poi si è lavata le mani.